Allora, è importante dire che fuori c'è la Madonna, fuori, guardate le palme, insomma, ce la faremo qua a stare fino alle 4 di mattina, siamo tornati, Trieste e Pavosa per tante cose, ovviamente la Barcolare a domani la regata, poi la Iota Stasena, il faro e poi noi volevamo dedicare questa serata a tutta Trieste e i triestini, quindi signori e signori, solo per voi la nuova hit del momento, lei è la famosissima Lidia e canta un brano che scalerà l'evento del successo, noi qui la presentiamo per la prima volta a Iota Stasena, signori e signori, è Tram de Ocina. E anche Tram de Ocina, Senato, Disgracia, venindoso per scocola, una casa di libertà, donna di Dio, è la giornata del lavoro, è dentro l'ogriela, è un povero pregador. E come l'amora che viene e che va, mi dici che al mondo sei da libertà, è come l'amora che viene e che va, mi dici che al mondo sei da libertà. Col due se va a se volar, col quattro in arsenal, con sie se va a marcolar, col cinque in ospedà, col uno in cimitero, col sette in la stazione, col nove in mani, con mio portiere e in calore. E come l'amora che viene e che va, mi dici che al mondo sei da libertà, è come l'amora che viene e che va, mi dici che al mondo sei da libertà. E anche ste mulette tutte in a tre per capelli, mi dici che al mondo sei da libertà, è come l'amora che viene e che va, mi dici che al mondo sei da libertà. Sei da libertà, è come l'amora che viene e che va, mi dici che al mondo sei da libertà. E adesso tutti i quarti insieme, l'abbiamo fatta solo per voi, so che la state cantando, quindi cantiamola tutti insieme, con la Iota Nascina, alla Usonia, per la Bartolana. E come la mora che viene e che va, e dice che il mondo se ha ribattato, e come la mora che viene e che va, e dice che il mondo se ha ribattato. E come la mora che viene e che va, e dice che il mondo se ha ribattato, e come la mora che viene e che va, e dice che il mondo se ha ribattato. Questa è dedicata a tutti i triestini, a tutti gli ospiti friulari che sono qui questa sera per la Bartolana, ce ne sono tantissimi. A tutti quanti quelli che sono tornati alla Usonia e stanno seguiti con grande affetto, anche se c'è pioggia e mora, e sbora? Scusatemi perché io sono romano e non ho capito bene, ci si mette la S o no? Davanti. Ci ha metto la S. Buonasera e buon divertimento. Questa è la Iota Assassina. Viva la Sbora!